La buona serata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Barberino e Calenzano. Sulla A1 in direzione Bologna chiuso il tratto tra Aglio e Pian del Voglio per lavori fino al 22 ottobre. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Gavorrano, Scalo e Giuncarico. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato tra Bagni di Lucca e Casoli per una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!